Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie a tutti. Nell'arco delle 26 partite giocate non abbiamo rubato nulla, abbiamo fatto sempre ottime gare, abbiamo espresso anche un buon calcio, quindi questo va dato merito a questo gruppo fantastico e questa è la soddisfazione. Forse meritavano qualcosa ancora di più se potevamo festeggiare in modo diverso, però tanti di questi ragazzi come la gara del Monterosi, qualcuno mi ha detto mister di questa partita non mi dimenticherò mai. Grazie. Oggi è un'altra giornata penso anche nella storia del Grosseto perché vincere due campionati consecutivi con ragazzi, con presidenti di Grosseto, anche questa penso che la famiglia Ceri è una grossissima soddisfazione. Grazie a aver riportato in così breve tempo, in tre anni, il Grosseto nei professionisti penso che va dato soprattutto merito alla società. E poi noi abbiamo fatto il nostro con la bravura e l'esperienza del nostro direttore che va sempre ricordato, Egidio Bicchieracchi, oggi per motivi di precauzione perché ha la figlia in stato interessante, la mamma anziana, quindi non ha voluto rischiare nulla, non è qui presente per noi. Per noi, quindi una grossissima bella soddisfazione.